Sacra Corona Unita è il titolo del libro presentato a Mesagne dalla scrittrice Mara Chiarelli, giornalista, giudiziaria e autrice del volume. Da giornalista che si occupa di case giudiziarie particolari a scrittrice il passo è breve. Sì, il passo è breve, direi non brevissimo, nel senso che poi comunque ci vuole un impegno anche nel calarsi in determinate situazioni che sono molto distanti dal quotidiano perché la granista di giudiziaria si deve muovere sul quotidiano. Certo è che poi comunque se ne sente la necessità di approfondire temi importanti che sono di stringente attualità ma che purtroppo molto spesso scivolano verso l'oblio se non vengono approfonditi. Questo è il motivo per cui ho avuto la possibilità di scrivere questo libro su un argomento, un tema, un segmento di vita quotidiana ma per molto tempo sottovalutato e in alcuni casi anche dimenticato. L'ho fatto per questo, nel senso che si trattava di riportare alla luce un fenomeno sommerso sommerso per cause che risalgono nel tempo ma probabilmente anche a causa di interessi generali c'era evidentemente proprio la necessità di tenerlo sommerso. Quindi ho tentato di portarlo alla luce con questo lavoro di inchiesta. Mi auguro che comunque ne seguano altri, insomma che il mio non sia l'unico. Ma come è cambiata la Sagra Corona unita negli anni? Lo spiega in una disamina il procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, Marco Di Napoli. Mi pare molto significativo che il libro venga presentato a Mesagne e mi pare anche assolutamente condivisibile la scelta dell'amministrazione comunale di promuovere questo libro e di farlo presentare qua. Un libro che parla anche delle radici, quella che è la Sagra Corona, di come si è sviluppata e soprattutto di come si è incuneata nel territorio. Non a caso, dicevamo con la scrittrice, il sottotitolo di Camaleonti. Sì, è un libro completo che parte dalle origini della Sagra Corona unita, ne ripercorre tutta la storia e poi arriva fino agli sviluppi moderni. Contribuisce a conoscere le cose. Per anni si è tenuta nascosta questa realtà. Penso che sia un'ipocrisia che non ha giovato a nessuno. Penso che è meglio conoscere i problemi per poterli affrontare e risolvere. Lei rappresenta un po' il passaggio anche tra quello che è stato e quello che è e quello che sarà. Com'è cambiata la Sagra Corona unita in questi anni? Beh, ci sono stati dei cambiamenti considerevoli. Le prime guerre di mafia, che risalgono alla metà degli anni Ottanta, il business principale era lo spaccio degli stupefagenti, il contrabbando. All'interno c'era l'adozione di regole molto ferre, di rituali molto precisi, giuramenti, vincoli di sangue, eccetera. Questa parte più scenografica si è persa e si è attenuata, però comunque rimane un feroce controllo e l'adozione di sistemi omertosi all'interno e all'esterno dell'associazione. Sarà utile per tutti i quattro anni, sarà utile...